La mia lotta è ai carboidrati, agli zuccheri e agli orari della ZTL. Io sostengo il culo che ammoscia, la tetta che affloscia, rifiuto il selfie improvviso che angoscia. Già al supermercato per me è una battaglia solo per scegliere il riso. A chicchi grandi, a chicchi piccoli, venere integrale, bianco, LGBT, fluid, basmati. Si capisce niente, hanno fatto pure il latte di viso, che io dico ma chi li mungi sti chicchi? Che una donna che non ha marito è nubile, se non è fidanzata è single, se non ha i fratelli è figlia unica, ma se non ha figli è una non mamma. Che significa? Se per questo io sono pure non giovane, non stronza, non ricca, è tutto con non chalance. L'unico modo per conoscere i ragazzi è quello di avere un'amica buona. Tu stavi settimane intere a pettinarti, a truccarti come lei, perché la volevi emulare, volevi essere come lei, e il vestito che su di lei era conturbante, su di te era disturbante. Ma se non c'ha tutte le case, ho colato un mo' mo' bene, ti amango le cane, vieni in casa mamma, un pozzonetto, vieni a casa. E se proprio tutto, tutto va male, mi prendo un badante. Cubano! Awww! Awww! Awww!